piccoli risultati piccoli gesti che hanno un grande valore benvenuta primavera bentornato ulivo la quinta edizione della manifestazione che dà il benvenuto alla primavera nel centro della città si è svolta stamattina piazza olivella montesanto davanti alla stazione della linea 2 della metropolitana dove sono stati piantumati sei ulivi donati dall'orto botanico al comune di napoli una bella iniziativa che ci vuole portare alla alberatura tutta la città attraverso la predisposizione 50 mila e senza arbore in cinque anni è quello che vogliamo fare come amministrazione ci stiamo lavorando con la legge un albero per ogni bambino nato la 14 il 92 regionale e quindi pensiamo che questa amministrazione abbia cominciato con il piede giusto e in mattinata si era già svolta un'altra manifestazione un albero per bambino nelle aree a verde del polifunzionale di soccavo dove sono stati piantumati circa 200 alberi e presentate le aree per la sosta dei visitatori con panchine e giochi per bambini abbiamo anche completato avviato anche a la zona di soccavo la piantumazione di 200 alberi che sono gli alberi per ogni bambino nato nella città di napoli abbiamo recuperato questa tradizione che si era un po' smarrita degli anni ma insomma qui sono molto contento perché nel cuore antico della città nel centro storico nel cuore bustante della città di napoli rimettere gli alberi che hanno un valore simbolico fortissimo con la straordinaria partecipazione dell'associazione del volontariato dei commercianti che adottano anche le aiuole e contribuiscono a rendere questa città più bella grazie